benvenuti benvenuti a questa puntata di stampa evangelo buongiorno a tutti come vedete la capigliatura sono quasi riuscito ad appianarla la voce invece è un po affaticata e dobbiamo però andare avanti con quello che c'è quindi ascoltate il poco fiato in vola che riesco ad emettere dopo queste nottate infinite che ci fanno riposare poco e dunque non ci danno una grande mano per guarire diciamo così la corda vocale un po affaticata saluto vittoria polacci mauro chialastri giovanni mazzotta flaminian longobardi bobac falamachi tanti amici che sono subito arrivati alla diretta vi dico subito che sarà una diretta molto importante dal punto di vista tecnico quindi fate sapere a tutti che siamo in connessione che siamo già in diretta anche perché non sarà una diretta particolarmente lunga l'importante per noi oggi è dare alcune informazioni tecniche alcune informazioni tecniche poi oggi io comincerò a girare l'italia per portare tecnicamente proprio la mia presenza ad aiutare fisicamente la raccolta firme oggi sarò nelle marche ad ascoli domani sarò in emilia romagna farò quattro dati in emilia romagna in 24 ore quindi ci sarà modo di incontrarci c'è edlan franco lincetto che saluto qui in diretta lo ringrazio molto perché ha sottolineato un problema che abbiamo avuto sugli atti principale separato che abbiamo ad alcuni mandati in alcune regioni dove le liste erano chiuse quindi atto principale atto separato andranno rimandati oggi lo dico subito come prima notizia grazie anche al controllo intelligente di lanfranco lincetto mi chiedo questo di far partecipare più persone possibili a questa diretta tuteliamoci con il mi piace mi raccomando un mi piace alla trasmissione e un condividi condividete la diretta sul vostro profilo se riuscite invitate anche gli amici a partecipare alla diretta stessa perché così le informazioni che do le do qui e tutti le recepiscono questa è una cosa importante alessandra mondelli dice un mamma la voce se la voce è andata via io non so come farò stasera stasera ho anche da fare una conferenza stampa e un comizio ad ascoli e signori e domani a rimini e domani vabbè insomma io vado avanti finché finché il signore mi dà forza cerco di non dormire mai e di dare retto a tutti con l'alfranco lincetto ci siamo sentiti stanotte a luna e ho continuato a lavorare come sapete perché è arrivato quel bel sondaggio di pr marketing che annuncia che siamo con un potenziale del 13 per cento signori il 13 per cento al popolo della famiglia come potenziale l'1,5 già in cassa diciamo vuol dire mezzo milione di italiani vi rendete conto 500 mila italiani che senza alcuna copertura mediatica danno già oggi il consenso al popolo della famiglia un potenziale del 13 per cento tutto questo fatto attraverso cosa attraverso la nostra fatica di attraversare l'italia di costruire cenacoli di parlare ovunque fatemi ringraziare Gianfranco Amato per tutto il lavoro straordinario che sta facendo anche oggi sul quotidiano la croce un editoriale straordinario di Gianfranco Amato e Vittoria mi fa ridere dice dopo la diretta vai a dormire un po' dice Vittoria Rossi le donne hanno questa cosa da croce rossine se tu sapessi le cose che devo fare dopo questa diretta per poi arrivare ad Ascoli per fare la conferenza stampa e per fare la serata della presentazione di o capiamo moriamo capiresti che è impossibile dormire un po' grazie a Don Massimo Lapponi che dice che pregherà per la mia voce non preoccupatevi comunque lo spirito va fortissimo magari il fisico è un po' affaticato ma lo spirito è molto lieto anche perché ripeto questo sondaggio di PR marketing che è arrivato ieri sera con il carico di speranza che ci dà il 13% di voto potenziale l'1,5% già ottenuto ad appena 0,5% da Emma Bonino che ha avuto una copertura mediatica incredibile straordinaria ripeto 0,5% in più essendo andata da Fazio avendo avuto le paginate del Corriere della Sera Emma Bonino 2% noi 1,5% cosa altra importante Emma Bonino ha trovato il modo imbrogliando di non dover raccogliere le firme perché diceva che non ce la faceva noi ce la stiamo facendo ma ce la stiamo facendo mettendo in campo tutta la nostra ostinazione perché il Viminale come sapete sta costellando di trappole il percorso per i movimenti che non sono rappresentati in Parlamento o che non hanno trovato i trucchetti come Emma Bonino per presentarsi senza raccogliere le firme. Noi le firme le dobbiamo raccogliere per raccogliere le firme dobbiamo fare un lavoro fatto bene e per esempio noi stessi qui a Roma abbiamo fatto un errore su su atto principale e atto separato lo ripeto chi ce l'ha aspetti perché atto principale e atto separato dovranno essere rinviati e li rinvieremo oggi invece i moduli di accettazione candidatura che sono il primo passo da fare quelli sono validi quindi per chi deve fare l'accettazione candidatura facciamo le accettazioni di candidatura e entro la giornata di oggi invece vi arriveranno i nuovi atti separati e atto principale quelli che servono alla raccolta firme però noi partiamo sempre come sempre dalla lettura del Vangelo di oggi che mi sembra quasi adeguata io sono un po' quel lebroso che oggi viene guarito da Gesù nel primo capitolo del Vangelo di Marco io dico sempre il Vangelo di Marco è bellissimo si legge in 80 minuti quando voi volete avvicinare qualcuno al Vangelo proponetegli la lettura del Vangelo di Marco una serie di immagini cinematografiche meravigliose scritte duemila anni fa ma con la capacità letteraria di un grande regista vorrei dire di un grande sceneggiatore e uno dopo l'altro in quegli 80 minuti vi avvicinate ed entrate nel cuore di quella lettura straordinaria che è la lettura del Vangelo davvero io lo dico il Vangelo di Marco è un regalo all'umanità e dovrebbe essere letto ovunque dovrebbe essere il libro di testo obbligatorio a scuola 80 minuti ripeto 80 minuti ci vogliono per leggere il Vangelo anche Marco Fasulo che è diacono dunque molto più autorevole di me dice che è un po' di parte anche lui per il Vangelo di Marco allora leggo il Vangelo di oggi sono sei versetti dal 40 al 45 in quel tempo venne a Gesù un lebroso lo supplicava in ginocchio gli diceva se vuoi puoi guarirmi mosso a compassione stese la mano lo toccò e gli disse lo voglio guarisci subito la lebra scomparve ed egli guarì e ammonendo severamente lo rimandò gli disse guarda di non dire niente a nessuno ma va presentati ai sacerdoti e offri per la tua purificazione quello che Mosè ha ordinato a testimonianza per loro ma quegli allontanato si cominciò a proclamare a chiunque il fatto al punto che Gesù non poteva più entrare pubblicamente in una città ma se ne stava fuori in luoghi deserti e venivano a lui da ogni parte questa è la parola di oggi davvero bellissima io trovo così commovente il lebroso cioè il senza speranza che dice se tu vuoi puoi guarirmi e Gesù dice lo voglio e l'istante della guarigione accompagna questo mi intenerisce molto della figura di Gesù l'idea che Gesù dica però attento adesso vai a fare tutto quello che serve dal punto di vista formale affinché non ci siano guai insomma per questa tua guarigione è davvero bellissimo perché penso che ogni volta il vangelo che leggiamo illumina il nostro lavoro no perché anche noi adesso dobbiamo fare tutto una serie di cose formali che sono dovute sono totalmente cretine dal mio punto di vista ma sono dovute allora lo dobbiamo fare e in più io mi incarno davvero nell'ebroso che spera di essere toccato da dalla volontà di Gesù di guarirlo da tanti mali insomma e magari dare ancora più forza per questo alla nostra battaglia facciamo davvero un percorso insieme se Dio vuole il popolo la famiglia può farcela scrive Stefano Bataloni se stiamo facendo qualcosa che invece è insensato io dico sempre ci incenerisca ci incenerisca ma quello che appare è che stiamo facendo qualcosa di importante allora attenti adesso lo dico agli amici fate per favore mi piace la diretta condividetela su tutti i vostri profili perché quello che sto per dire è di estrema importanza dal punto di vista della riuscita formale della consegna delle nostre liste alcune regioni hanno completato il percorso di definizione delle liste stesse alcune regioni la stanno completando in queste ore di certo nelle ultime 20 le prossime 24 ore tutta Italia avrà completato la formazione delle liste nelle prossime 24 ore sarà completata la formazione delle liste bisogna procedere quindi con gli atti formali gli atti formali prevedono l'accettazione di candidatura da parte dei candidati innanzitutto la firma sul modulo che afferma la non incandidabilità un'autocertificazione e questi sono gli atti preliminari poi bisogna andare sull'atto principale e l'atto separato cosa si fa si fanno gli atti separati si raccolgono le firme sugli atti separati alla fine di aver raccolto almeno 375 firme che è il limite minimo ma con l'obiettivo di arrivare a 450 non ne bastano 375 450 almeno raggiunto quell'obiettivo si fa l'atto separato l'atto principale scusate l'atto principale si fa per ultimo perché l'atto principale contiene i numeri delle firme che avete raccolto quindi mi raccomando aspettate perché gli atti principali separati che vi abbiamo mandato a chi vi abbiamo mandato sono sbagliati oggi arriveranno gli atti principali e gli atti separati corretti c'è un sito finalmente del ministero dell'interno segnatevi l'indirizzo elezioni.interno.it lo ripeto elezioni.interno.it dove sono presenti le istruzioni cioè il manuale centinaia di pagine purtroppo il manuale di presentazione alle elezioni.ho detto ci sono delle trappole bene la trappola che abbiamo scoperto è che sono obbligatori in ogni collegio oltre ai quattro candidati del plurinominale anche quattro candidati del plurinominale supplenti.supplenti vuol dire che non vanno in lista ma nel caso salti qualcuno della lista per qualche motivo di incompatibilità verranno prelevati dai quattro supplenti.è obbligatorio indicare i quattro supplenti in ogni collegio plurinominale sia Camera che Senato. ora l'indicazione dei supplenti se siete in grado di farla voi territorialmente indicando madre, padre, due maschi e due femmine ripeto due maschi e due femmine li mettete sorelle, fratelli, fidanzate, amici a cui dite guarda non ti devi candidare però devono firmare l'accettazione di candidatura tant'è che al terzo rigo dell'accettazione di candidatura troverete dei puntini io sottoscritto bla 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 nato a il faccio Mario Arinolfi nato a Roma il 15 871 codice fiscale perché hanno messo obbligatorio il codice fiscale per i candidati pensate un po' altra trappola obbligatorio il codice fiscale. firmo questo atto come candidato trovate dei puntini se il candidato è un candidato effettivo della lista dovete scrivere candidato effettivo se invece sta firmando l'accettazione di candidatura un candidato supplente dovete scrivere candidato supplente quindi o la parola effettivo o la parola supplente per le circoscrizioni che avessero difficoltà a trovare i supplenti noi abbiamo organizzato una quartina di supplenti fissi che possiamo prestare ad ogni regione non vi approfittate di questo se trovate i vostri supplenti è meglio lo ripeto possono essere persone di famiglia che mettete solo lì per adempiere a questo obbligo normativo se proprio non ce la fate non trovate nessuno sappiate che noi a Roma vi forniremo i supplenti d'accordo allora poiché il sondaggio di PR marketing ci dà così forti 1,5 già in cassa 13 per cento di voto potenziale l'attacco contro di noi diventerà pesantissimo e ovviamente anche al ministero degli interni cercheranno di farci le pulci perché è una procedura così delirante come quella di queste presentazioni dove tutti i movimenti si sono coperti con i trucchi come Emma Bonino che non c'aveva la capacità di raccogliere le firme noi le stiamo raccogliendo ma le stiamo raccogliendo dentro questa gincana di difficoltà che si stanno verificando ovunque come fanno a firmare i supplenti semplici vanno su un foglio di accettazione di candidatura e firmano come tutti i candidati l'unica differenza sono i quei puntini firmano come candidati supplenti al terzo rigo c'è scritto dell'accettazione di candidatura ripeto io sottoscritto Maria Di Nolfi nato a Roma il 15 agosto 71 intendo candidarmi come candidato puntini puntini effettivo perché io sono un candidato effettivo se invece sta firmando un candidato supplente firma candidato supplente Maria Rosa Ferrarisi dice una cosa giusta è una follia in così pochi giorni esattamente così esattamente così Alberto dice parlavo della quartina cosa vuol dire la quartina la quartina non c'è ognuno firma come individuo se vi serve una quartina da Roma noi facciamo fare le accettazioni di candidatura a Roma ve le emendiamo e voi mettete la quartina di cui avete bisogno la mettete sul vostro atto principale e atto separato dove è necessario scriverlo vi stanno arrivando ripeto atti principali atti separati nuovi chi cerca informazioni adesso ma non si muova perché finché non vi diamo il via libera non muovetevi è elezioni.interno.it lo ripeto elezioni.interno.it al terzo rigo Angela si scrive effettivo supplente non a cazzo si scrive dove ci sono i puntini come candidato puntini la si scrive effettivo o supplente ovviamente l'anfranco incetto che è preciso la quartina prevede quattro io ho detto quattro per ogni collegio quindi vuol dire quattro per ogni collegio plurinominale camera che devono essere diversi dai quattro dei collegio plurinominale senato perché la legge prevede che chi si candida alla camera non si può presentare al senato e viceversa quindi le quartine di fatto sono due ripeto però che se c'è necessità di quartine di supplenti le possiamo fare pure noi d'accordo ve le troviamo da roma le supplenze però sarebbe molto meglio che vi organizzate sul territorio trovando parenti e amici che vi facciano la cortesia di essere supplenti quindi ripeto la procedura è questa verranno consegnate le liste alcune regioni hanno già chiuso e già sapete quali sono i vostri candidati tassativamente secondo questa lista andate a raccogliere le firme vi saranno consegnati in giornata degli atti separati entro le prossime 24 ore atto separato e atto principale corretti con atto principale atto separato corretto si può fare la raccolta firme prima però già da ora potete fare le accettazioni di candidatura perché i moduli dell'accettazione di candidatura che avete sono già buoni d'accordo quindi potete far firmare a ogni candidato l'accettazione di candidatura per la candidatura plurinominale quella per l'uninominale e la dichiarazione di nonostativa sulle incandidabilità d'accordo tutto chiaro per ogni necessario chiarimento ulteriore chi volesse studiarsi il manuale lo trova finalmente pubblicato dal ministero e l'interno all'indirizzo elezioni.interno.it ripeto elezioni.interno.it antonia dice in quale città del collegio plurinominale si deve depositare l'atto principale l'atto principale non va depositato non si deposita perché l'atto principale è l'ultimo atto che viene riempito prima si riempiono gli atti separati d'accordo prima gli atti separati e riempiteli per strada lasciate perdere il comune che al comune non si fanno queste cose si fanno incontrando le persone per strada se poi ci avete qualcuno al comune particolarmente amico dentro gli uffici comunali ma ci vanno in cinque a firmare gli uffici comunali le firme le fate con le iniziative per strada o per le iniziative nelle case iniziative in parrocchia dove dove li tenete dopo che avete fatto l'accettazione di candidatura fate la raccolta firme prima sugli atti separati poi sugli atti principali atti alla fine l'ultima cosa che fate è l'atto principale fate tutto questo percorso chiedendo sempre se avete dei dubbi ci saranno dei referenti regionali antonia mi chiede in quale comune si devono raccogliere le firme l'atto principale il comune che volete andate nel comune che volete non c'è non c'è necessità poi tutti i plichi vanno consegnati al referente regionale che è uno solo per ogni regione il referente regionale il 28 di gennaio mattina presenta le liste alla corte d'appello quindi capiamoci bene queste ore servono a fare le accettazioni di candidatura delle liste chiuse o che chiuderemo in giornata dalle liste dalle accettazioni di candidatura si fanno poi i moduli partendo dagli atti separati dove avrete per ogni collegio plurinominale le firme si raccolgono solo per i collegi plurinominali quattro nomi sono i candidati effettivi quattro nomi sono i candidati supplenti ovviamente bisogna prendere almeno 375 firme per ogni collegio plurinominale sono 63 in italia i collegi plurinominali 34 i collegi plurinominali del senato 63 alla camera 34 al senato questa procedura dunque tutti gli atti separati alla fine degli atti separati vittoria polacci mi chiede chi è il referente per la toscana e claudio ademollo di arezzo il referente toscano ma adesso state buoni perché la toscana la stiamo ancora chiudendo faremo dunque questo lavoro con grande precisione prima di tutto gli atti di accettazione candidatura poi gli atti di dichiarazione di non incompatibilità poi fate il lavoro sugli atti separati che devono ancora arrivarvi chi ce li ha ce li ha sbagliati quindi aspettate perché oggi vi arriva la l'atto separato corretto è l'atto principale corretto ciro palumbo dice mario latina cosa vuol dire mario latina che vuol dire c'è qualcuno di latina se mi scrivesse qualcuno di latina adinolfi ghioccio a gmail.com dal punto di vista politico come capite mirta sartori dice è possibile mario che tutte le volte che si va a votare bisogna studiarci un'enciclopedia ti ringrazio della spiegazione si mirta purtroppo la fanno difficilissima per questa ragione per cui noi facciamo il popolo la famiglia facciamo una fatica insopportabile e altri preferiscono andare con gli altri partiti perché per fare tutte queste cose bisogna avere grande preparazione è una preparazione tecnica estenuante non si improvvisa diciamo che non si improvvisa lorenzo appena detto che non puoi raccogliere le firme sugli atti che hai adesso lorenzo tamiano che dice oggi raccogliamo le firme ascoltate quello che dico gli atti separati e gli atti principali dove si raccolgono le firme arriveranno oggi d'accordo oggi quindi quelli che avete non sono buoni vanno rifatti sono stato chiaro lo dico a lorenzo damiano che dice oggi raccogliamo le firme oggi potete raccogliere le firme di auto di dichiarazione di accettazione di candidatura non le firme dei cittadini sugli atti separati la mia mail è adinolfi chiocciola gmail.com adinolfi minuscolo visto che vittoria l'ha scritto l'ha scritto maiuscolo adinolfi minuscolo chiocciola gmail.com è vero annaccelli servono grandi preparazioni tecniche anche grazie motivazione perché ovviamente ogni minuto uno gli viene voglia e lascia perdere tutto sto inferno perché questo è un inferno evidentemente costruito con tutte le trappole necessarie ma noi dobbiamo essere bravi a fare le cose precise lo ripeto oggi è 11 abbiamo due settimane piene due settimane piene per fare tutto il lavoro quindi facciamolo con calma ma bene due settimane sono sufficienti per accogliere 375 firme ci sono realtà che le raccolgono in due giorni quindi state con calma sereni qualsiasi difficoltà ci sono io finché dura questa voce che è finita come capite a pescara ci siamo certo che a pescara ci siamo c'è francesca marzoli a pescara c'è giovanni marco tuglio che sarà candidato al collegio uninominale di pescara quindi siamo presenti assolutamente il referente per la sicilia è nicola di matteo nostro coordinatore nazionale nella zona del collegio catania siracusa ragusa il referente è giovanna arminio mi raccomando quindi questi sono i nostri referenti in sicilia anna ciappa dice serve il cortisone serve un miracolo come sempre ma non c'è tempo per fare nulla se mi metto a far arrivare un medico non arrivo oggi ad ascoli a fare iniziativa e oggi la mia o mio obiettivo è fare tutta la documentazione per voi farvela arrivare corretta in tutta italia e dopo di che prendere e fare un lo stampo di modulistica per roma per raccogliere non mi dite adesso tutte le città ragazzi a modena c'è mirco de carli con flavio morani cercatevi adesso no non mi fate la domanda città sono 110 città se facciamo così non arriviamo mai allora a pescara chi è riferente e ricominciamo francesca marzoli con giovanni marco tuglio ripeto la femmina è un maschio perché bisogna procedere a coppia per via della legge che prevede le quote rosa come dice antonia bassignano il numero di firme è facilmente raggiungibile fondamentale però essere precisi nella raccolta e nella parte documentale allora dopo che abbiamo poi raccolto tutte le firme e tutte le candidature dei candidati e dei firmatari serve il certificato elettorale d'accordo quindi bisogna andare a prendere poi al comune di residenza dei candidati e dei firmatari il certificato elettorale con il certificato elettorale andremo avanti per presentare le liste le liste si presentano con lo ripeto accettazione di candidatura dichiarazione di non incandidabilità almeno 375 firme per collegio plurinominale dei candidati e dei firmatari i certificati elettorali questi materiali si danno al riferimento regionale il riferimento regionale consegna il 28 gennaio tutte le liste in corte d'appello al capoluogo regionale questa è la procedura in sardegna c'è alberto agus quindi si può fare riferimento ad alberto agus per la sardegna ovviamente dice antonia bassignana instaurate un buon colloquio con l'ufficio elettorale del comune questo è giusto tutte le informazioni le trovate anche sulla croce il quotidiano la croce oggi ha un altro straordinario editoriale di gianfranco amato se volete dare una mano a questa causa che è così faticosa così onerosa e così costosa se potete abbonatevi al quotidiano la croce www.lagrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora questo è il modo per avere tutte le informazioni necessarie anche per esempio sul numero di domani metteremo delle tavole del sondaggio che dà il popolo miglia all'1,5 per cento già acquisito e al 13 per cento potenziale quindi vi consiglio davvero l'abbonamento alla croce per leggere amato sicuramente tutti i giorni ormai fa un editoriale più bello al giorno bellissima anche la trasmissione ieri su pdf tv e poi anche per avere tutte le informazioni ulteriori rispetto alla campagna elettorale corrado dice i certificati di tutti e 400 i firmatari sì di tutti i 400 i firmatari però è abbastanza semplice se li fate in un solo comune andate al comune vi presentate al comune e il comune vi darà dei certificati che si chiamano certificati collettivi voi presentate le fotocopie delle firme raccolte e loro vi danno i certificati entro 24 ore sono tenuti dalla legge a darvi per questo vi dico concentrate la raccolta firme in un comune o in due comuni del vostro collegio perché se vi disperdete in dieci comuni potete andare a rincorrere i certificati elettorali in tutta in tutta in tutte le comuni della circoscrizione donatella lotà dice che siamo in via roma con i banchetti mi raccomando le firme non prendete ancora servono i servono i moduli corretti che vi arriveranno in giornata penso di avervi dato tutte le informazioni mi raccomando la questione dei quattro supplenti se riuscite trovate i quattro supplenti da mettere all'interno delle vostre liste altrimenti li chiedete a roma e ve li troveremo qualsiasi ulteriore informazione lo ripeto il sito è eligendo si chiama eligendo il sito del ministero interno elezioni punto interno punto it ripeto c'è il manuale elezioni punto interno punto it noi oggi ci vediamo con gli amici marchigiani gli amici romani avranno già le modulistiche pronte da ritirare qui a casa mia oggi collegio per collegio il giorno dopo domani sarò in emilia romagna a rimini per lavorare anche con gli amici di rimini a livello regionale i supplenti fatene uno fatene quattro per ogni collegio ripeteteli sempre che non siano candidati effettivi prendete quattro fratelli sorelle madri amici due maschi e due femmine e li mettete su tutti i collegi del della camera della regione e del senato altri quattro perché non si può stare in camera e senato dunque mi raccomando questo lavoro è fondamentale perché le trappole sono tante ma dobbiamo schipparle tutte e si può fare abbastanza facilmente come capirete ormai sono alla grado zero dell'energia fisica e purtroppo sono le otto di mattina e iniziativa di ascoli e stasera le nove quindi vuol dire chiuderò a mezzanotte dopo dovrò fare il numero del quotidiano la croce col povero giovanni marco tuglio sperando di farmi ascoltare sarà di odati mi ricorda che lunedì sarò invece ad apriglia se arrivo vivo quindi ci vediamo lunedì ad apriglia sicuramente con gli amici di apriglia i candidati supplenti non compariranno sulla lista di voto no la loro funzione si chiude il giorno in cui vengono proclamate le liste quando vengono proclamate le liste loro non esistono più quindi i supplenti non appaiono da nessuna parte non appaiono da nessuna parte lo ripeto quindi basta trovare quattro parenti per la camera quattro parenti per il senato su tutta la regione li replicate in tutti i collegi e avete risolto il problema spero che queste informazioni circolino a tutto il popolo della famiglia lo ripeto sono informazioni importanti aspettate gli atti principali e separati nuovi che vi manderemo in giornata il 21 sarò a pisa è vero roberto mura me lo ricorda speriamo con un po di voce residua speriamo con un po di vita residua anche e un po di sonno in più e noi andremo avanti ovviamente fino al 28 28 di gennaio con questo lavoro mandatario può fare il supplente si il supplente lo può fare chiunque ricordatevi però che non può farlo alla camera al senato i supplenti camera sono supplenti camera i supplenti senato sono supplenti senato quindi caro danilo tu ti vedo subito come supplente tu e mara tutte e due supplenti abbiamo trovato un maschio e una femmina per il veneto ok spero che il signore mi dia una mano con la fatica che stiamo facendo ma spero soprattutto che la vostra forza possa supplire alla mia debolezza purtroppo fare tutto è estremamente complesso non dormire mai non fa bene vi do sta notizia e dover fare tante cose alla fine manda in fusione non solo non tanto non solo il cervello ogni tanto salta ma ormai anche alcuni elementi fisici il modulo di non incompatibilità ve l'abbiamo mandato già stampato antonia è già mandato nei moduli quando riceverete il pacchetto di moduli c'è anche il modulo di non incompatibilità che è un modulo che non abbiamo preparato ovviamente i supplenti del senato devono avere più di 40 anni certo al senato solo gente che ha più di 40 anni alla camera film vanno bene sopra i 25 anni non gli under 25 sopra i 25 anni alla camera sopra i 40 anni al senato vi ringrazio molto chi non è compatibile ecco chi è incompatibile sono incompatibili quelli della legge severino se avete carichi vendenti penali per condanne superiori ai due anni questo vi rende incompatibili comunque sia all'interno della 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 manualistica del ministero c'è anche questo saluto Ettore Cassetta il nostro candidato a Rovigo il 19 ci arriviamo a Cavarzere anche con te se Dio vuole servono contatti a Trento Rovereto e Pergine ci dice Francesca Patuzzi Maria Marroso dice non mollare ma non schiattare è ottima sempre la sua sintesi ciao Maria saluto anche Maria Elisabetta Governatori Alessandro Melegari Monica Consigliere e tutti gli amici che oggi sono in diretta qui con noi che l'angelo ci protegga che Gesù sappia stendere la mano verso di noi e guarirci da ogni male prima di tutto quello spirituale che dia la forza a questa battaglia perché di forza ne servono davvero tanto ne serve davvero tanta di forza per fare tutto questo però avete visto che siamo benedetti davvero l'1,5% annunciato dai PR marketing e forse arriverà anche un altro sondaggio nelle prossime ore mi dicono che avrà questo tipo di forza soprattutto il 13% di voto potenziale ricordatevi basta la metà della metà del nostro voto potenziale se il potenziale è il 13 13 diviso 2 fa 6,50 6,50 diviso 2 fa 3,25 cioè con la metà della metà del nostro voto potenziale noi entriamo a spasso in Parlamento fate questo calcolo quindi davvero è importante metterci la tigna come dice Dario Leonardo fare il lavoro straordinario che ognuno di voi sta facendo con grande fatica e grande sacrificio di sé su ogni territorio se avete dubbi chiedete siamo sempre qui mattina, sera, notte come sapete c'è chi mi scrive alle 5 di mattina e trova la risposta chi mi scrive alle 2 di mattina trova la risposta alle 4 di mattina ho scritto a uno che su Facebook diceva vi voterò con turandomi il naso e ho detto no guarda se ti turi il naso il tuo voto non lo voglio non voglio il voto di gente e si tura il naso alle 4 di questa mattina gli ho scritto pubblicamente lo trovate su Facebook che voglio solo persone che votano con entusiasmo e fanno votare altre 10 famiglie per il popolo e la famiglia non voglio gente che si tura il naso alle 4 di mattina questo è il pensiero che mi è venuto a chi voleva diciamo così dirci che si ci concedeva il suo voto noi vogliamo voti entusiasti voti di persone che vanno al seggio sapendo che oggi è un giorno straordinario che sta costruendo nella sua fatica nella sua difficoltà nel suo dolore però forse una stagione straordinaria davvero di cambio di passo per la vita e per la famiglia a partire dal 4 di marzo dovrei dormire dice Alessandro Melegari hai ragione stanotte non so come farò perché sono a Ascoli e poi devo fare la croce quindi a Ascoli alle 21 si fanno mezzanotte sempre più o meno a quelle iniziative poi bisogna fare il giornale vedremo un po' domani poi ci vediamo a Rimini c'è da viaggiare anche io ce la metto tutta amici cari mettetela tutta anche voi so che insieme ce la possiamo fare siamo una squadra fortissimi come ci dice il nostro riferimento culturale più alto che è che cozzalone secondo me e vi voglio bene davvero e grazie per tutte le preghiere che vorrete dire per salvaguardare sto ciccione che sta dando l'anima e il corpo per il popolo e la famiglia vi ringrazio mi scuso anzi con Sara che dice che sono trasmissioni troppo tecniche rendi anche le trasmissioni tecniche interessanti grazie Sara sei sempre gentile trovi il coté carino in ogni questione sì scusatemi per la trasmissione troppo tecnica ma oggi era necessario fare una trasmissione tecnica per ogni informazione tecnica ulteriore elezioni.interno.it se Esther Corona dice porta con te lo zerinol se no devi trovare ancora una volta un medico che ti prescrive l'antibiotico e vi abbraccio davvero se potete se potete davvero fate un abbonamento alla croce per leggere per leggere quelle cose bellissime che scrive Gianfranco Amato che voglio veramente sono tre giorni che gli scrivo perché lo voglio mettere per iscritto in realtà lo sento anche al telefono tre volte al giorno ma gli dico sempre che è particolarmente ispirato in questo momento e l'editoriale anche di oggi è davvero straordinario va a letto insomma va a letto quindi scusate per la trasmissione tecnica ma come dice Antonia Bassignana servono anche i dettagli tecnici per fare questo lavoro da Maria di Novi una buona giornata con ciò che resta di lui e ci sentiamo in questi giorni domani non so se faccio stampa e vangelo se è necessario farò un'altra puntata altrimenti cercherò di dormire un po' al mattino vi voglio bene da Maria di Novi un abbraccio forza popolare la famiglia stiamo diventando qualcosa che davvero mette paura e quando vi diranno è il voto inutile è il voto perso o ogni insulto verso di voi e magari soprattutto verso di me rispondete stai dicendo questo perché hai solo paura del cambiamento che cambierebbe anche te e invece cambierebbe te in bene quindi ricordatevi ogni attacco ha una ragione e la ragione è che il popolo della famiglia sta diventando qualcosa di vero e di forte in tutta Italia da Maria di Novi una buona giornata a tutti